Kubernetes e fondamenti è il corso che stavi aspettando per avere delle solide basi su Kubernetes e affrontare con confidenza i tuoi prossimi progetti su Kubernetes. In questo corso imparerai i concetti base dell'architettura microservizi, di che cosa sono i container e un container engine. Vedremo insieme come si rilasciano delle applicazioni in Kubernetes e come si possono aggiornare, sfruttando tutte le funzionalità di deployment. Vedremo le operazioni di base per amministrare un cluster, tra cui anche la gestione degli utenti e i ruoli. Vedremo come configurare un cluster per separarlo e poter lavorare in team o ospitare più progetti. Il corso è un insieme di teoria e pratica, quindi ci saranno delle sezioni dove vengono spiegati dei concetti e delle sezioni dove dovrai seguire dei laboratori ti verranno segnati dei compiti con cui potrai consolidare le conoscenze. Durante il corso inoltre ci saranno dei quiz rapidi per testare continuamente le tue conoscenze e i concetti appresi. Sei pronto? Iniziamo subito!